Ha aperto i battenti a Napoli il quinto salone Gustus, la kermessa enogastronomica dedicata all'agroalimentare, all'enogastronomia e alla tecnologia. Dopo il successo della quarta edizione con una crescita del 60% per numero di espositori e del 20% di visitatori, Gustus si consolida come manifestazione di riferimento per il sud Italia. Così Rosario Lopa, portavoce della consulta nazionale dell'agricoltura. Oggi a Gustus stiamo promuovendo e esaltando questo tipo di attività, un'attività importante perché dall'agricoltura si crea l'agroalimentare che poi diventa un nostro sponsor internazionale in tutto il mondo. A Gustus valorizziamo proprio questo. La pasta è la vera regina di questa quinta edizione. In fiera presentata la novità della trafila colorata, prodotta anche per celiaci. Un'idea vincente come spiega lo chef Raffaele Soldati. Abbiamo pensato ai colori, quindi tutti i colori naturali. Sono clorofille, quindi dagli spinaci a calendula, quindi fiori, ma piuttosto che cacao, cioccolato. Questo l'abbiamo poi tradotto anche sulle farine senza glutine per far sì di dare colore, dare qualcosa di diverso a queste farine, soprattutto i bambini quando vedono le paste colorate assolutamente sono più propensi a mangiare la pasta.